Il Taranto alle polveri bagnate, allo Iacovone contro il fanalino di coda Vibonese finisce senza reti. Terzo 0-0 consecutivo per gli Ionici che però hanno la migliore difesa del campionato con tre gol subiti in otto giornate. La terza manda in campo la formazione tipo con Pacilli rientrante a mezzo servizio. Il terreno è pesante per l'abbondante pioggia accaduta durante la gara. Emozioni col contagocce, copione ripetitivo, Taranto spuntato che fa la partita, Vibonese che si difende con ordine e riparte raramente. Scarsa la cronaca dopo sette minuti, c'è il primo tentativo ed è di marca calabrese con Cattaneo, pallone alto sulla traversa. Al dodicesimo l'occasione forse più ghiotta della partita, capita sui piedi di Giovinco, la conclusione in diagonale viene respinta da Mengoni, poi la difesa salva in calcio d'angolo. Al diciottesimo c'è un traversone dalla destra di Mastro Monaco, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta senza la zampata vincente. Anche nel secondo tempo poco da raccontare, dopo dieci minuti ci prova Civilleri dal limite fuori di poco. Ventinovesimo Chiorra in due tempi neutralizza una percussione di Spina. E infine al trentasettesimo Sant'Arpia è entrato in campo a dieci minuti dalla fine, si rende pericoloso ma Mengoni è ancora attento nel respingere. Poi Riccardi non riesce a coordinarsi per bene, finisce 0-0 il Taranto sale a quota 13 in classifica.